Davide, partiamo da te, dalla tua attività, profilo professionale e poi andiamo a parlare del progetto concorso. Bene, allora, opero nel settore termotecnico da ormai 13 anni, sono in questo studio dove ho iniziato come collaboratore, studio Forgad, e adesso invece mi sono un attimo staccato, però collaboriamo sempre, siamo otto ingegneri e seguiamo la progettazione impiantistica sia termotecnica che elettrica e quindi siamo stato molto affiatato, giovane e veramente mi trovo bene in questo ambiente. E immagino aggiornato, in merito al concorso visto che non è la prima volta che partecipi e? Esatto, è già la seconda volta che vinco e tra l'altro il lago di Como mi porta bene perché la prima volta ho vinto con un progetto su una villa, sempre sul lago di Como, questa volta qualche chilometro più in là, sempre il progetto di questa ristrutturazione di questa villa bella grande, 500 metri quadri, dove la sfida è stata quella appunto di migliorare il target energetico, si partiva da classica caldaia gasolio, ovviamente con la committenza abbiamo proposto tutte le soluzioni possibili, ho progettato un impianto in pompa di calore e caldaia condensazione, quindi impianto ibrido e tutto con Wisman, ottimo prodotto. E nel concorso sempre la parola integrazione e la parola d'ordine perché al di là del fatto di usare molti codici di Wisman c'è anche un progetto che ha un po' largo respiro, quasi una sperimentazione che però poi si mette in pratica perché... Assolutamente, assolutamente, ovviamente si parte da un involucro super isolato con materiali ecocompatibili e poi anche a livello impiantistico soluzioni anche nella gestione, di fatti c'è tutta una domotica a valle per la gestione della termoregolazione di tutta la regolazione dell'abitazione. Senti, in questi anni anche il catalogo Wisman si è aggiornato moltissimo, vorrei farti una domanda proprio su questo, il tuo rapporto con Wisman e come l'hai vista cambiare in questi anni? Allora appunto io opero da 13 anni quando uscirono le prime caldaie a condensazione, poi sappiamo tutti benissimo l'evoluzione normativa, negli ultimi anni ormai lo standard è andare sulle pompe di calore, Wisman è uscita anche con la ventilazione meccanica, un prodotto che apprezzo molto e che utilizzo, essendo valtellinese c'è anche il discorso biomassa che non viene sottovalutato e molto spesso mi capita di utilizzare anche la biomassa in abbinamento col solare termico, ecco, è la parte diciamo raffrescamento che essendo in montagna rimane ancora un pochino, però ci penserò soprattutto nel fondo valle quando inizierà a far caldo. Anche perché dalla valtellina si arriva direttamente al lago come hai appena detto, il lago delle lezioni, io sono del lago maggiore però l'altra fonda del lago di Como che vuole da mezzogiorno. Grazie. Grazie.